ciao a tutti i tecnomaniaci oggi andremo a parlare di come utilizzare più di un account whatsapp sullo stesso smartphone è un procedimento utile specialmente se avete più di un numero di telefono calcolando che whatsapp può essere utilizzato con un numero alla volta andando nel play store e scaricando parallel space questo non sarà più un problema una volta scaricato e aperto parallel space esso ci chiederà quali applicazioni vogliamo clonare e selezioneremo whatsapp diamo i dovuti consensi e in pochi secondi vedremo che l'app sarà duplicata se come me disponete di un dispositivo a 64 bit parallel space vi farà scaricare una pick up aggiuntivo per poter funzionare correttamente per poter installare questo file andiamo nella gestione file o archivio del vostro smartphone scendiamo giù a tutto nella memoria locale e lo troveremo pronto da installare ed adesso senza ulteriori problemi cliccando su whatsapp vedremo che si come se lo avessimo appena installato su uno smartphone nuovo finiamo la configurazione di whatsapp inserendo il secondo numero di telefono ed il gioco è fatto il clone è pronto per essere utilizzato di default tutte le app clonate funzionano all'interno di parallel space per poterle copiare sulla schermata dello smartphone dovremo tenere premuto su ds e trascinarle su crea scorciatoia e da come vedete le troverete insieme alle altre app con questo procedimento potrete duplicare tutte le app che volete e qualora non vi servissero più vi basterà tenere premuto su ds e trascinarle su elimina ed esse spariranno anche dalle schermate come sempre spero che questa guida vi sia stata utile e vi aspetto al prossimo video